I militari della Guardia di Finanza di Catania e funzionari dell'Agenzia di Accise, Dogane e Monopoli della Sicilia hanno sequestrato beni per 25 milioni di euro nei confronti di otto società, due ditte individuali e 13 indagati nell'ambito di un'inchiesta per una presunta truffa su carburanti. Il provvedimento del GIP Etneo ipotizza, a vario titolo, i reati di sottrazione all'accertamento o al pagamento dell'Accisa su prodotti energetici, in fedele omessa dichiarazione dei redditi e missione di fatture per operazioni inesistenti. I sequestri sono stati eseguiti nelle province di Catania, Palermo, Enna, Catanzaro e Reggio Calabria. L'indagine condotta dalle unità dei gruppi tutela-finanza pubblica ha riguardato due distinti gruppi. Secondo l'accusa avrebbero commercializzato prodotti petroliferi illecitamente, introdotti nel territorio nazionale per la successiva rivendita a basso costo, evadendo l'IVA e accise, e venduto gasolio a uso agricolo e miscele non autorizzate fraudolentemente destinate all'uso autotrazione.